Musica Hi people of youtube, welcome back to a new episode of Centro, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata Sono appena di nuovo rientrato nel gioco e per qualche motivo mi ha tolto la giacca ma mi ha rimesso la collana Abbiamo l'anello ma non abbiamo l'orologio Devo ancora capire se è perché il gioco magari si deve un attimo riassestare, si deve riaggiornare Anche la cosa dell'audio era un attimo la luce però aspetta Secondo me un'altra piccola pacchettina io ce la butterei sopra però dai stiamo così che siamo un attimo più leggeri almeno Ci siamo lasciati la scorsa puntata con l'apertura del nostro primo GM Robs e otteniamo parte dei guadagni con il singhiozzo Oggi invece il principio di Peter, ciao Ti ho nominato responsabile della sicurezza del galà del museo, non deludermi Ok arrivo subito Beh è stata una roba veloce Però guarda un'altra cosa che forca miseria ogni volta che entriamo in sto gioco L'opacità è a 1 perché continua ad apparire il coso nero attorno Un'altra pacchettina Boh ieri la rivedrei eh Aspetta che mi faccio una moto oggi Però la storia che stiamo vivendo fino adesso è una storia totalmente disconnessa ad ora Da tutto dio mio Cosa è appena successo Da tutto ciò che sensoro è sempre stato fino ad ora Che magari oh per un motivo o per un altro potrebbe essere anche un bene Però ad ora è tutto completamente distaccato Cioè è palese che tra poco loro creeranno i saints perché avranno beghe con tutte le loro gang E non voglio buttare proprio benzina sul fuoco ma secondo me tutto inizierà da questa missione Tutto inizierà da qui secondo me Ovvero faremo un casino qua al museo ci licenzieranno e diremo Ehi ma andiamo a fanculo tutto facciamo una nostra gang Eccoci qua Niente cazzate Arriverà qualcuno a rubarlo Secondo me arrivano gli idols a rovinare tutto Secondo giorno già siamo il capo della sicurezza Beh non è male Capo Signora 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 Va bene, la ringrazio. Dammi una bottiglia intera. Ed è per quello che prenderò da bere. Ehi, e allora io bevo, stronza. E che palle. Pronto? Cosa? Proprio ora. Capo. Casino, assoluto. Merda. Calmi. Puttana Eva. Ridammi un po' di vita, stronzo. Mi servono altre armi. Aia. Quel tizio lì farà male. Puttana Eva. Non riesco a prenderlo, sto fucile fa schifo. Vieni qui. Oh, finalmente preso in faccia. Mamma mia. Che palle però non prendere le armi. Stronza, maledetta. Ma io, scusami, ho due fucili a pompa? Ah, no, era una carabina quella. Ok. Dov'è il codice? Se lo sono già fottuto, secondo me. E vai. Via, 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 via. Stupidi. Ragazzoni pompati. No, qui. Ecco fatto. Ma ci sono i dinosauri. Ecco fatto. No, arrivano gli idols, lo sapevo. Santo e lì 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 lì. E vai, due gang che mi vengono a sparare. E' un casino sta missione, di sicuro. Sta missione è sicuro un casino, Dio mio. Quel tizio aveva anche un telefono sulla moto, tra l'altro. Allora, aspetta, aspetta. Calmi tutti. Non posso gestire un combattimento così in un campo aperto. Mi serve copertura. Non posso gestire un monumento per il grigio che hai construito. I oppressori drink e riuscano. E' un po' di rinforza. Ecco fatto. Oh, calmo. Ricarica. Ok, ho solo sei colpi. Non è un bene. Tutto questo non è un bene, ho solo... Una manciata di munizioni. Via. Vieni qui che mi ricarico un po' di vita. Ecco fatto. Pam, pam, pam. Sparate nello stomaco. Aspetta. Ecco, fatto. Più che altro che palle che in questa missione abbiamo le munizioni contate, in tutte le altre non le avevamo illimitate. E addio alla vostra motoretta. E addio alla vostra motoretta. Dai. Uno solo contro un gruppo di ragazzini merdosi. Oh, finalmente. E hanno già iniziato a imbrattare tutto. Ci penso io, ci penso io. Ecco fatto. Ma la moto sta andando avanti da sola. Aspetta che ricarico. Smettetela di farvi i selfie deficienti e combattete. Ecco fatto. Mamma mia. Che idioti. Guardami mentre rapino, mamma. Ecco fatto. Dammi tutti i soldi che avete, tra l'altro. Ok, qua non c'è nessuno. Ma come hanno fatto in così poco tempo a imbrattare tutto? Sono bravissimi. E sono salito anche di livello. Ecco fatto. Beccati questo. Ho bisogno di tirare fuori di nuovo la carabina. Ecco. Fatta. Ma stai zitto, scemo. Puttana che male. Il codex per cosa, poi? E ricarica però, aspetta. Non è che possiamo andare avanti senza munizioni. Ok. E il codice ce l'abbiamo. Forza ragazzini, venite fuori. Aspetta. Ecco fatto. La pistola è l'unica arma veloce in questo momento. La carabina è buona ma è lenta. Ecco come si fa. Via da qui, stronzetto. Cazzo, sto finendo le munizioni. Sto finendo le munizioni. Sto finendo le munizioni e... E non è un bene. Molla quei soldi. Ok. Dai, 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 dai. Ancora un pochino. What the fuck? Devo sbrigarmi allora. Devo sbrigarmi allora. Dai, 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 fammi passare. Mi sono separati dal codice. Qualcuno ha l'occhio. Negativo. Non ho niente. È solo il caos qui. Eh, immagino. Neveva qualcosa per riuscire a questa gate. Ehm, tipo questo. Cosa mi serve, scusami? Ah, tipo il cannone. Non può. Funziona, almeno, però. Mi serve... Ehm, come faccio ad attivarlo? Ah, la palla. La palla da cannone. Che ne dici di prendere questo, invece? Il fucilazzo che aveva il tizio? Dai, prendi qualcosa. Tipo sparare all'interno del cannone? Bum. Beh, che dire. È un risultato. È sicuramente un risultato. Sì, anche io sono sorpreso di ciò. Oh, c'è da dire che comunque... Siamo soli... Contro due gang che stanno combattendo per i fatti loro, eh. E io sono un codardo che gli spara la schiena. Ok, ho roundato half the board. We're moving into the... What the... What the... What a shot of the wall, Spence? I can't steal from me. Shit, that's Sergio. Let's go, motherfucker. Bene, anche Gwen è stata ammazzata. E io ho un sospetto... Minchia, questo è cattuto dal cielo. Perché io ho un sospetto diverso che invece Gwen stia lavorando dall'interno con i nemici? Minchia, qui è sparato la schiena a sta tizia? Beh, mi sono appena risposto. Ahia, che male. Vieni qua. Ahia. Ecco fatto. Quando siamo sulle scale non possiamo fare le mosse finali. Il che non è sbueno, però, ehi. Grazie, idols. Ricordiamo che in tutto questo... Io sto combattendo con una pistolina. Più che altro mi sorprende che non ci siano veramente musiche. Non posso lanciare la granata. Ecco fatto. Mi chiedo se sia un problema mio... ...o è un problema generale che non si sente la musica. Dai, vieni con me tu. Ah, ma probabilmente c'era... ...c'è gente da reclutare. Vieni con me tu. Mi serve uno scudo umano. Ottimo, abbiamo più gente con cui arruolarci. Beh, stavamo andando bene anche da soli. Su quello non c'è dubbio. Ecco fatto. Aspetta. Vieni qui. Ecco fatto. Madonna mia. Meno male che abbiamo trovato altra gente. Così abbiamo distratti per bene questi. Dritto in faccia gliel'abbiamo piazzata quella bomba. Bello. E questo tizio era... ...cazzutissimo. Levatevi ragazzi. Levatevi da lì. Con munizioni infinite. La copro io signora. Aia. Esatto. Si nasconda signora. Qua ci pensiamo noi ragazzoni. Questa è una notte al museo effettivamente. Un filo cambiata la storia ma il concetto è sempre quello. Tizi che entrano dentro il museo per cercare di rubare quello che c'è dentro di prezioso. Ho un po' semplificato la storia di una notte al museo. Può essere. Oh occhio. Non voglio che mi muoia gli unici compagni che ho. Dove sei? Ecco fatto. Non c'è nulla modo che mi lascio Sergio... Madonna mia che missione che è stata. Adesso gli sparano. Tu eri il capo della sicurezza. Si col cazzo. Sì, c'è un po' semplice. Io non... Io non capisco. Tu stai spostando il tempo con lei. Oltimo. Sì, non c'è nulla. Sì, non c'è nulla. E allora io sparerò le vostre proprietà. Sì, non c'è nulla Antonio. Mi prometto. Sì, non c'è nulla. Sì, non c'è nulla. Sì. Il mio dovere. Come è andato il lavoro? Bello questi nostri caninazzi che escono. Il principio di Peter. Quanti? 3000 punti. Hai sbloccato. Fallimento personale e professionale. Bonus un sacco di tempo libero. Sono io fra qualche giorno. Sì, non c'è nulla.